Siamo con Luca Blanco a QP Giocatore a tutto fare, ti finirei perché tu vi sei in difesa, in attacco, a centro campo, in fascia Ci siamo divertiti stasera, ci siamo divertiti, è stata una bella partita Sappiamo che voi comunque quest'anno vi state giocando la Serie B Siete una squadra sicuramente molto competitiva, già di primavera il discorso si era visto che è stata una squadra forte Avete fatto qualche acquisto, avete chiamato qualcuno, cosa puntate? Allora, che siamo competitivi l'hai detto tu, poi acquisti mica tanto perché si è appena fatto male il capitano E quindi... Speranza che torni prestissimo Molto, molto presto, però dai ci divertiamo, siamo un bel gruppo di amici che vuol divertirsi giocando a calcio Poi dove arriveremo vedremo Le esperienze del pre-averile vi sono servite a conoscere questo campionato? E ci siamo divertiti, ci siamo divertiti, siamo arrivati quasi in fondo e va bene così, proveremo la prossima estate Quello che ti chiedo è, visto che mi avevano promesso un anno e mezzo fa che se aveste vinto un campionato ci svelavate cosa voleva dire a QP Ah guarda, stai parlando con l'unico e assolutamente a conoscenza No, infatti lo sapevo che non me lo dicevi Perché sono l'ultimo arrivato, quindi non lo so, bisogna chiedere alla dirigenza Ce n'è uno in tribuna, dei dirigenti, presidente, Mogorovi L'importante è che qualcuno prima o poi ci lo dice Certo, 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 prima o poi sveleremo le sigle L'ultima domanda sulla partita di questa sera è stata abbastanza facile, però ho visto che voi comunque provate sempre a giocare alla palla Provate sempre a giocare alla palla a terra Beh, diciamo che si chiama il gioco del pallone perché bisogna usare la palla Quindi cerchiamo di fare il massimo, poi vediamo cosa ci riesce Fai più gol più tu degli attaccanti? Chiudiamo così? No, 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 io gioco al servizio della squadra, io sono venuto qua per far far gol a Mogorovi Io sono qui per quello Per anno che torna Certo, certo, certo No, ma io se no smetto Aspettiamo lui, quindi o la coppia o niente Certo, certo, certo Ciao Luca, alla prossima Ciao, grazie Ciao, complimenti Ciao, ciao Ciao ragazzi